Venerdì torna l'appuntamento Unica Imprese, si mettono a confronto le aziende del territorio i progetti di ricerca delle Università di Cagliari. Davide Vannucci. Il futuro dell'economia si chiama Industria 4.0, quella che sfrutta le tecnologie digitali e la connessione tra i sistemi fisici e quelli informatici. Sarà questo il cuore dell'appuntamento Unica Imprese, venerdì prossimo, nella sede del CREA dell'Università di Cagliari. L'evento mette a confronto le aziende del territorio con i percorsi di ricerca applicata dell'Ateneo. Uniche Imprese è il momento in cui l'Università si apre al territorio e crea un ponte tra la ricerca e le attività delle imprese. Quest'anno, per la prima volta, la manifestazione si svolge in collaborazione con Confindustria Sardegna. Teniamo presente che molte delle persone che in questo momento stanno studiando all'Università faranno un lavoro che oggi non esiste. Questo è uno spunto di riflessione importante anche per il mondo della produzione. L'Università racconterà le nuove linee di ricerca, ma non solo. Presenteremo quelli che sono i progetti che abbiamo già in essere con molte imprese, i progetti cluster, che sono basati sul principio della porta aperta, il che vuol dire che altre imprese interessate alle tematiche sviluppate possono inserirsi in qualsiasi momento e approfittare dell'opportunità. Sono tanti i settori ad alto tasso di innovazione in cui la sinergia tra università e impresa può essere proficua. Avremo i cluster sui temi del turismo, dell'ICT, dell'aerospazio, delle biotecnologie. Abbiamo veramente un patrimonio di conoscenze enorme.